Il processo che è mutato il contesto giuridico in cui si operava da un semplice allontanamento volontario, che è un fatto che non costituisce reato, la Procura ha deciso di rubricare il fascicolo come sequestro di persona. Questa rubricazione è dovuta sicuramente all'intervento dei media e all'attenzione e ha consentito così agli inquirenti di avere nelle mani più strumenti investigativi perché è diverso indagare per un allontanamento volontario da invece un fatto che costituisce reato. Per cui parlo degli strumenti tipo le intercettazioni, i tabulati, l'utilizzo di perizie perché ricordiamocelo bene che soltanto per un fatto che costituisce reato lo Stato ha la possibilità di pagare con i soldi pubblici un perito che fisicamente poi possa effettuare una perizia sul telefono. Allora finisco questo racconto, finisco questo racconto per gli amici che ci seguono a casa. Ad un certo punto, l'avete appena sentito, qui non da me, dall'avvocatessa Gianuscelli, non si indaga più per allontanamento volontario ma si inizia ad indagare per sequestro di persona. Beh, capite che le cose cambiano. E finalmente, dopo quattro mesi, quattro lunghi mesi di disperazione per questa mamma in diretta che abbiamo, la signora Roberta, si inizia a cercare Alessandro. E per cui da una settimana, da una settimana, in tv noi vediamo le ricerche avvenire. Anche ieri, credo, vero Roberta? Sì, sì, l'onora, anche ieri. Dove hanno cercato? E anche oggi. E questo è successo, anche, lo dico perché abbiamo parlato di Piera Maggio, ma lo dico perché c'è un'altra mamma collegata qui, attenzione. Perché se questa mamma, anche lei, come Piera Maggio, non avesse la forza, il coraggio di lottare, di chiedere aiuto, probabilmente nessuno avrebbe cercato suo figlio. E questo è gravissimo. Lo trovo, un dato gravissimo. Le madri vanno ascoltate. Vanno ascoltate perché le madri sanno. conoscono i loro figli anche quando i figli si allontanano, perché adolescenti, perché presi da altri motivi esterni alla famiglia. Le madri vanno ascoltate sempre perché le madri sanno. È biologicamente dimostrato, oltre che psicologicamente dimostrato, che le madri sanno. Dunque, dunque, e qui arriva, no, Lugli, arriva la televisione. Ma certo che sì. Ma dico di più, che grazie alla televisione si scopre questa falsa pista che avrebbe portato chissà dove. I due ragazzi, l'avremmo cominciato a cercare. Invece, grazie alla televisione, ma la televisione è un grande, i media in assoluto. Non parliamo solo di tv, la televisione, la radio, i giornali, i quotidiani, i settimanali, sono uno stimolo. Sì, ma io mi interrogo sul sistema. Mi interrogo come è possibile, perdonatemi, che un ragazzo, ascoltando la madre, che non si è allontanato volontariamente, perché ha più volte dichiarato alla mamma che si sentiva manipolato e raggirato. Aveva paura. Un ragazzo che scompare così nel nulla, per tutti questi mesi, senza sentire i genitori, non è possibile che venga catalogato come un allontanamento volontario. Roberta, dimmi tu, cosa ne pensi? Sì, Eleonora, sì. Noi, guarda, stiamo dicendo in televisione, adesso perché grazie proprio ai media ne stiamo avendo la possibilità, stiamo dicendo in televisione tutto quello che per mesi abbiamo detto privatamente. Noi abbiamo fatto una prima denuncia di scomparsa il 5 di dicembre, ma il 7 abbiamo fatto una integrazione, dove abbiamo dichiarato tutto quello che stiamo dicendo nell'ultimo mese a questa parte. Quindi che Alessandro si sentiva manipolato, che Alessandro aveva paura, che Alessandro dormiva con me. E abbiamo veramente passato tre mesi di silenzio. Poi non voglio dire che non è stato fatto nulla, ma sicuramente quello che stanno facendo adesso andava fatto in dicembre. Perché comunque ormai, Eleonora, ieri erano cinque mesi che Alessandro non è più in casa. Ah, ci sono cinque mesi allora. Alessandro non si è volatilizzato. Cioè qualcuno deve sapere qualcosa, qualcosa deve venire fuori, perché io veramente non ne posso più. Leonora, ecco qui l'importanza assoluta dei media. Allora, Donaldo lavora per, lavora, opera per una comunità straordinaria, che si occupa anche di vittime delle sette, di persone manipolate, di persone che vengono allontanate dal nucleo familiare, di persone che non si fanno più né sentire né vedere dalle proprie famiglie, dai propri genitori, dalle proprie madri, perché entrano, come dire, in un loop di un altro mondo, un mondo che dovrebbe lasciarli andare, lasciarli liberi, e in realtà li costringe psicologicamente, infatti si parla di psicosette, in, come dire, in comunità. Ma, diciamo così, poi potremmo dire tante altre cose, Donaldo, ma è un discorso molto lungo. Intanto volevo ribadire il plauso anche a questa trasmissione che ha seguito dall'inizio e i media, ecco, che fanno proprio il lavoro più importante, dare voce a chi non ha voce, e dare voce a chi magari la voce, insomma, è troppo, non arriva, insomma, non incide, non provoca quell'attenzione che invece deve provocare, e allora è giusto che sia così, ed ecco che la televisione fa un grande servizio, grandissimo, importante, accompagna il cittadino, accompagna queste famiglie ad arrivare alla verità. Poi, come è stato ben detto, noi l'abbiamo citato anche qualche tempo fa, abbiamo anche un numero verde dedicato, perché chi magari non si vuole esporre può però chiamare a questo numero verde antisette, perché chissà non faccia finta di non sapere, non se ne lavi le mani perché c'è chi sta soffrendo. Sì, ma se avessero indagato prima, se avessero indagato prima, all'inizio, in maniera diversa, perdonatemi, perché ad esempio, però siamo sempre lì, ai soliti discorsi, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, si può recuperare, recuperare significa muoversi immediatamente, chissà lo faccia, perché la vita di questo ragazzo può essere nelle mani di tante persone, o di poche, o anche di una sola, che sa la verità e deve parlare perché, per salvare questo ragazzo. Certo. C'è un aspetto fondamentale in questa storia, che Donaldo conosce bene per le cose di cui si occupa, cioè le sette sono un elemento di esclusione dell'esterno. Questo è il punto di partenza, cioè di non comunicazione. Ciò che avviene dentro non soltanto automaticamente resta segreto, ma è oggetto di ricatto, e spesso di impoverimento delle persone che vengono coinvolte in queste sette. Allora, qual è, perché la grande difficoltà di investigazione? E a volte di non comprensione, diciamolo, perché con tutta l'umanità del mondo, con tutto lo spirito cristiano di cui è armato Donaldo, poi c'è anche una cosa che siamo incapacità a volte. E quindi l'incapacità di penetrare in questi sistemi, che trovano la bomba atomica nei confronti della televisione. Perché la televisione disvela, la televisione obbliga a penetrare in sistemi chiusi che diventano in questo modo oggetto di attenzione e creano paura in personaggi di queste sette, che possono poi disvelare qualcosa di oscuro. Questo è l'elemento che va sottolineato, è il ruolo della televisione, che deve sempre avere censura nei confronti della propria pornografia, ma deve essere momento di accompagnamento e di racconto, perché ricordiamolo, il mestiere del giornalismo e del giornalista è di svelare ciò che non è noto. E questo può avvenire nei confronti della sette in maniera determinante. Spero che in questo caso non si vada soltanto cercando nei campi, ma che si cerchi anche nel mondo web. Che lui magari, insomma, in tanti altri... E ce lo auguriamo! Speriamo che a 360 gradi... Ce lo auguriamo che lo stiano facendo! Si facciano ricerche auspico, suppongo. Roberta, puoi intervenire? Roberta! Volevo intervenire, sì, Eleonora. Allora, intanto, volevo dire che nei primi giorni della scomparsa di Alessandro, io tenevo sotto controllo il suo telefono e mi ero accorta che Alessandro, o chi per lui, risultava attivo su Facebook. Avevo anche provato a mettere una notte intera il telefono di Alessandro in modalità aereo, quindi non poteva ricevere messaggi, non poteva ricevere nulla e comunque risultava attivo in alcuni momenti. Quindi avevo chiesto proprio esplicitamente i log d'accesso a Facebook per risalire a un indirizzo IP per avere informazioni e trattandosi di allontanamento volontario non ho potuto avere nulla di tutto questo. Trattandosi di allontanamento volontario, ci sono... È vero? Ma è incredibile. Vabbè, ma adesso lo puoi avere perché non fanno più allontanamento. Cioè, da due settimane, cosa tre settimane, si parla d'altro. Gli anuccelli... Il problema, Eleonora, è che sono passate cinque settimane, cinque mesi. Cinque mesi, tantissimo. È certo, è tantissimo. Dovevano indagare prima, ma è quello che sto denunciando anch'io ora in diretta, ragazzi. Ma assolutamente sì. Ma assolutamente sì. Non si può con un fatto di questo genere, un racconto di una madre che parla chiaramente di paura da parte di un ragazzo, di manipolazione, non si può archiviare la questione parlando di allontanamento volontario. Guardate che questa cosa vale anche per tantissime donne scomparse. Perché se avessero indagato prima, magari qualcuna sarebbe... Certo, manipolazione significa automaticamente responsabilità di altri. È evidente, è la parola stessa che lo induce questo. Il condivisione classico in una seta dura 30 giorni. Dopo 30 giorni, un ragazzo diventa altro. È una cosa pericolosissima. Gli anuccelli. Quindi, da questo punto di vista, veramente, cioè la televisione e tutti i mezzi possibili facciano qualcosa. Ci vuole un tantam, perché tanto nella seta la televisione non c'è. È sicuro. Non arrivano queste nostre informazioni. Ci vuole un tantam. Ci vuole la consapevolezza collettiva che dobbiamo liberare questo ragazzo e tanti altri ragazzi e tante altre donne da questa situazione assolutamente di prigionia fisica, psicologica, intellettiva, emotiva, affettiva. Gli anuccelli, concludiamo con te. Devo andare dai coniugi romano. Volevo soltanto iniziare questo. Alessandro, ieri è stato cercato negli strapiombi del famoso poligono di Sassuolo. Vi dico soltanto che l'esito di queste ricerche hanno portato a individuare dei resti umani femminili, perché così ha detto il medico legale, probabilmente appartenente alla signora Paola Landini, scomparsa nel 2012 da quel poligono, la cui auto era stata parcheggiata a 10 metri dal posto in cui sono stati ritrovati questi resti umani. Allora io mi chiedo, quando scompare una persona, ma che cosa si fa? Dove si cerca? Paola Landini, scomparsa nel 2012, è stata ritrovata a maggio del 2021 a 10 metri dal posto dove aveva parcheggiato la sua auto. Dico questo solo per chiudere e per proiettare purtroppo questa ombra su tutto ciò che succede, su questo buco nero in cui entrano le persone che vivono in famiglia una scomparsa.